Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con GTA V e siamo qui con Michael e ci aspetta il grande colpo. Andiamo. Salve. Sono una buona persona. Adesso metti i bambini. Siamo pronti per cercare questo c***o, certo? Sì, sì. Se in realtà si vede, potremmo si vede. Pronti, fraccione. Siamo! Ok, ora vi metterò il mio c***o nel banco. Il bambino non è il nostro, ma siamo così vicino. Siamo la squadra. Siamo! Siamo! Bene, ci siamo. Ognuno sulla propria macchina. E vai. Viva il risparmio. Sei troppo lento, Trevor. Ma dove vai? La banca è di qua. Esatto. È Lester con me, in the chopper? Non dovremmo ritrovare qualcuno che è... Non lo so. Capabile? Sono qui. Puoi chiedermi. Nevemmo Lester in l'aria, rinunciando le comms e gestendo il link up con il treno. Qualche rinno non potrebbe essere capito di gestire le logistiche, T. Eccoci qua. È solo una delle hat che ho portato. Bene, si inizia finalmente. Siamo pronti per fare qualcosa di profondamente stupido? Ho lavorato per Trevor. Sono usato a questo. Allora, tieni premuto R2 per muovere la scavatrice verso il muro. Premi destra per attivare la scavatrice. Mazza. Faremo una breccia nel muro. Un po' difficile guidare sta roba, però. Vediamo se ce la facciamo. Messo. Devo lavorare. Eh vai, distruggi tutto. Vai. La banca di Fort Knox. E' già suonato l'allarme, cacchio. Dobbiamo sbrigarci. Ah via. Eh, adesso improvvisamente è più veloce. Il retro va molto meglio sta roba. Allora, piazza le cariche esplosive sulle porte della cassaforte. Diamo... Eccola qua. Allora, una. Sì, sì, lo so. Un attimo. Dai tempo al tempo. Andiamo un po' più lontano, so. E vai. Passiamo al mitra. Eccoci qua. I ringotti. Dobbiamo caricarli. Oh cacchio, no. I nose. Merda. Vabbè, con il riparo ce la possiamo fare. Non è impossibile. Cacchio quanti sono. Però sto mitra non mi piace molto. Preferisco la carabina. Questo qua. Vai, Paki. Ci penso io qua. Ti copro le spalle. Oh merda, ne arrivano... Cacchio. Bastardi. Mi quanti soldi? Grande. Questo deve essere il colpo più fruttuoso. Dai, dai, ricarica. Stiamo facendo una strage qua. 100 milioni, 800 mila dollari. Mortacci. Oh, cosa devo fare adesso? Li ho fatti fuori già tutti. Ma è un po' mi hanno rovinato l'armatura. Maledetti. Ok. Ah, passiamo a Trevor. Grande. Oh merda. Ne arrivano altri. E già, era troppo facile, se no. No, mi sembra che devo... Devo farmi strada, mi sa. Però ripariamoci qua, che se no si mette male. 200 milioni di dollari. Quando mai uno li vede? Cacchio, ne arrivano pure di là. Come osate? Io sto facendo il mio lavoro qua. Passiamo a Trevor. Franklin se la vede da solo lì. Io ho già spiannato la strada. Lascia la città. Via. Subito. Facciamo attenzione solo a non scontrarci con l'altro. Occhio, a non perdere il carico, che... Sono cavoli amari, se no. Passa a Michael. Va bene. Ah, è nei guai pure lui. Vabbè, questi sono poliziotti semplici. Sono solo delle pedine. Occhio. Dai, esci fuori. Oh, ti ho beccato, eh. Ce ne sono ancora sotto. Qua, recuperiamo un po' di munizioni. Ma non farmi ridere. Eh, lasciateci passare. Eh, va bene. Per ora lasciamolo stare l'elicottero. No, forse lo devo distruggere, invece. Via. Parliamoci. Ah, ti ho beccato, eh. Usiamo la sua abilità, così magari... Posso beccarli in testa. Faccio un po' prima. Ecco. No, ce ne sono altri. Vabbè, passiamo... Facciamo il giro, va. Volevo saltare, ma è meglio evitare. Bastardi. Aspetta, però, io... Lo voglio distruggere, sto elicottero. L'avrò preso? No, vabbè. Pazienza. No, passiamo di qua. No, cosa fai? No, mira questo. Ce n'è ancora uno. Bastardo. Ok, abbiamo fatto piazza... No, no, dove vai, Michael? Andiamo di qua. Oh, cacchio. Altri. Eh, noi siamo molto più veloci. Ah, ecco l'elicottero. Boh, voglio farlo fuori, basta. Oh, finalmente. Eh, è andato. Mira, siamo a 5 stelle. Non sarà facile fuggire, mi sa, eh. Vabbè, andiamo, ce ne va. Facciamo una cosa, distruggiamo pure questi. Oh, merda, ne arrivano altri. Cacchio. Dovrebbero arrivare da qua. Ah, ma sono sopra. Porca miseria. Dai, dai, Michael, in giornata. L'altro elicottero. Oh, cacchio. Distrutto pure questo. Maledetti. Non avrete i miei soldi. Dai, dai, dai. Oh, muori. Ma ce ne sono ancora, accidenti. C'è tutta la polizia dello Stato. Eh, non fate gli eroi. Però state morendo lo stesso. Dai, ho liberato la strada. Un altro elicottero. Un altro missile. Bastardo. Fregato. Oh, cacchio. Ce n'era uno che ci aspettava al varco. No, cosa fai? Non zigzag. Eh, muoviamoci, dai. Merda. Facciamo un po'... Ma usiamo il... Ah, sì. Non so se questo me lo fa usare da qua, no. Usiamo il missile normale. Bene. Via, via, andiamo. Cosa aspetti? Andiamoci. Ah, ce ne sono altri. Beh, adesso qua però posso fare piazza pulita alla Terminator. Prendetevi questo, bastardi. Oh, cacchio. Merda. Quanti ne arrivano? Distruggiamo tutto. Non solo stare attento a non ferire i miei compagni. Ma... Mi sto prendendo, sì. Mi fa ad andare avanti lo stesso. Bene, adesso eliminiamo i surfestiti. No, ce n'è uno laggiù. Porca miseria. Oh, esce l'ho scoperto. Bastardo. Oh, cacchio. Era questa. Merda. Vabbè. Si sono rotti un po' solo i vetri, spero. Sì, sì. Siamo a posto. Eh, mio. Non sarà facile. Cacchio. Cacchio. Merda. Ma qua mi vedono? Io direi di... Se non mi blocco... Di svegnarmela di qua. Anzi, andiamo là dietro. Dai, dai, dai. Via. Qua non ci vedranno mai. Secondo me qui non mi vedranno. Mettiamoci qua. Dai, dai, dai. Che forse ce la facciamo. Eh, cosa sto facendo? Attimi di panico. Nooo. Come hanno fatto a vedermi? Bastardi. Andiamo di qua. Ce l'avevo fatta, porca miseria. Dai. Ma da quando è in qua i poliziotti vanno nei parcheggi, pure? Porca miseria. Ecco, mi stanno cercando di nuovo. Ma che bastardi. Solo che adesso sono dentro. Potrebbero arrivare da un momento all'altro. Sti stronzi. No, qui siamo allo scoperto. Porca miseria. Vabbè. Prepariamoci un piano B. Se qua c'è una rampa per il salto... Eccola lì. Se per caso arrivano... Ehm... Salto e scappo di là. Ah, ecco, infatti. Bene. Piano B. Portacci loro. Andiamocene di qua. Se... Non distruggiamo troppo la macchina. Il mio piano era perfetto. Restare lì e aspettare che se ne andassero. E invece no. Di qua. Questo è un altro parcheggio. Se non vengono pure qua. Non lo so. Chissà quanto tempo ci vuole finché spariscano. Ah, mi stanno cercando da tutt'altra parte. Quindi... Forse ce la facciamo. Vediamo se non arrivano... No, ce n'è uno che sta arrivando qua. Allontaniamoci, va. Che è meglio. Andiamo di qua. Dacci loro. Ecco qui. Dovremmo essere al sicuro. Andiamo di qua. A me basta solo che non compaiono all'improvviso. Oh, ce l'abbiamo fatta. Grande. Che soddisfazione. Mike Gate. Mike, come ti stai? T. Credo che siamo in la clare. Ti stai bene? Abbiamo una compagnia. Bene. E' quasi fatta. Bene. E' quasi fatta. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Devo stare anche stabile, però. Dai, grande, Vester. Non me l'aspettavo. Eh, no, questo non l'hai mancato. Ah, no, l'hai preso. Grande. E' più bravo di noi. Ah, qua bisogna stare attenti. Eh, sbrigati, però, perché qui è una zona pericolosa. Grande. Questo era l'ultimo. Oh, stai attento tu, eh. Se distruggi il carico sono 100 milioni di dollari in meno. E non sono noccioline. Siamo vicini. Allora, occhio. Ecco, ci siamo. Quello l'ha scaricato là. Siamo quasi. Un po' più vicino, però. Non mi fido. Bene. Ci abbiamo fatto anche noi. Che precisione. Bene, sono aumentati tutti del 25%. Perfetto. Beh, questa squadra era davvero forte, comunque. L'ho scelta bene. Sono davvero soddisfatto. Non, non è là. Eh, vai. È fatta. No, non, non è era. Sì, siamo bene, ok? Wow, sei un serio, f***o, f***o, f***o. Hey, guarda, io mi prendo il carico, ok? Ok. Hey, voi due, vieni con me. I'm going to need some help getting the metal in storage for a few days before I can sell it. BOTH OF US? Yes, BOTH OF YOU! It's been a pleasure working with you. You'll get paid when we get the cash, but until then I want you to keep it on the down low. No new cars, no vacations. No, nothing! Now come on, sugar! Oh, f*** me. Grande estilo. Madonna, 30 milioni! Wow! E adesso posso comprare tutto quello che voglio, praticamente. Bene, dai! Grande! Questo chi è? Franklin? Ma ha cambiato macchina. Wow! Allora, lì è comparsa una F. Credo che sia la prossima missione, però io direi di fermarmi qua. Che perché abbiamo fatto proprio un bel colpo. Io allora vi ringrazio a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo poi nel prossimo episodio di GTA V. Ciao a tutti! Ciao a tutti!